È un'attività molto utile per la popolazione residente, in particolare per la popolazione anziana che non è molto alfabetizzata dal punto di vista informatica ed è un servizio che si avvicina proprio alla popolazione ed è particolarmente benefica per quei comuni come Naurino che sono nella parte interna del territorio gilentano, distante da Vallo della Lucane e che i cittadini hanno qualche difficoltà sia per la mancanza di servizi pubblici di linea molto frequenti e sia per l'orografia delle nostre strade che non consentono di raggiungere in tempi brevi Vallo della Lucane o altri centri per poter godere di quei servizi che l'Inps eroga a favore della popolazione. Quattro comuni siglano una convenzione con l'Inps per avvicinare i servizi Inps al territorio. Riteniamo che questo sia un servizio importante che viene offerto al territorio, soprattutto a quella parte della popolazione più fragile e quindi un servizio che avvicina l'istituzione al territorio e queste persone in futuro invece di recarsi presso la sede dell'Inps se potranno recarsi nella sede comunale dove saranno assistite da un dipendente esperto per risolvere le varie problematiche. Oggi è una giornata importantissima perché siamo stati chiamati a dare un servizio in più ai nostri cittadini e il ruolo del sindaco è anche quello, semplificare la vita dei nostri concittadini e oggi siamo riusciti a fare proprio questo. Quindi è un giorno importante sia per San Mauro Labruca e lo sarà per tutti gli altri comuni che aderiranno in futuro. Noi essendo in prima linea tutti i giorni, sapendo le difficoltà che i cittadini dei piccoli centri hanno per raggiungere gli uffici, abbiamo messo in modo una serie di attività ed è questa attivazione dello sportello Inps che servirà ad avvicinare i cittadini agli uffici e importantissimo risultato che oggi abbiamo siglato nella sede del Falco Nazionale Cilento. Ma non è solo questo che abbiamo siglato, un altro importante risultato per la Rinterne e le botteghe di comunità a breve presso i nostri comuni sarà realizzata una bottega di comunità e un'altra notizia che do in anteprima ai scettici perché ci sono degli scettici a fine anno inaugureremo la nostra casa salute o ospedale di comunità che sarà un altro importante risultato per il territorio dove vede i protagonisti sette comuni quindi invertendo ogni aspettativa i servizi verso i cittadini, verso l'area interna fermo restando che i nostri territori hanno bisogno di queste iniziative importanti.